Ciao, buon dia a tutti ragazzi, è ancora lui? Sì, sono ancora io ragazzi, sono ancora io, ragazzi, io mi chiamo tanto molto, ragazzi, lui è senza nome, è il suo nome, quindi hai un nome, è un nome, senza nome è un nome, sì, lo so, no, lui ragazzi è Baldo, è Baldo Baldini, il re dei cretini che ha chiuso il suo canale, spiegaci il perché, com'è, non avevi tempo, cos'è che facevi? Ah, uno non avevi tempo, due, siccome mettono la stoffa di Danone, posso permettermi, no, 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 e terzo, dai, diciamo che non avevi tempo, ecco, ragazzi, diciamo che è colpa della sua professione, perché lui viene in classe con me, se qualcuno non lo sapesse, quindi se la San Giorgia alla fine guarda questo video qui, proprio questo, la incolpiamo, la incolpiamo, la andiamo ad ammazzare, ti vengo a cercare, capito? L'ha detto anche lui? Avviciniamoci ancora di più, è proprio così, ti vengiamo a cercare, non vi arrabbiate se io non ho molto tempo, guardate, lui ha perfino chiuso il canale, adesso non arrivo a chiudere il canale, comunque, i soliti due o tre video al giorno ve li do, eh, ah, sì, al giorno, al giorno, era per vedere se eravate attenti, allora, arrabbiatevi, dite lì, Dado, l'estate, non c'è più scuola, fai il video, fai il video, fai il video, ragazzi, sono in estate anch'io, porco voi, cioè, devi andare al mare, poi devi fare qualcosa, riposarsi, è un lavoro, è quello che ci vuole, è un peggio, cavolo, cioè, ragazzi, fai, è proprio, eh, e comunque, questo qui è un vlog, vi ho portato, ragazzi, uno youtuber, qui, insieme a noi, sono andato alle tre, del Los Angeles, spariamo cavolato adesso, sono andato alle tre del 2015, ragazzi, hanno, hanno annunciato, eh, For Honor, Z Division, tante di quelle robe, perché adesso non posso dire cose, no, 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 ma c'ero anch'io, ragazzi, c'ero anch'io, ma abbiamo scrittato, perché noi, in Pagella, abbiamo, questa maglietta l'ho presa lì, hai capito tu, che pensi non è vero niente, hai capito? Abbiamo, abbiamo 20 in inglese, quindi siamo andati là a New York, abbiamo capito, è a New York, a Los Angeles, l'abbiamo capito tutto, abbiamo capito tutto, là, siamo stati lì da L.A. a Los Angeles, fino alle 5 del mattino, poi dopo siamo tornati a casa in aereo, sì, perché ci siamo spazzati, con degli occhi rossi così, con due meloni, ci siamo spazzati per il maggioregni, siamo un pochino, sì, però ci siamo andati in aereo, sono scappati perché noi siamo dei VIP, abbiamo pagato premio, baciami la mano, baciami la mano, Inchilati, eh, inchilati, eh, niente, prendiamo il frisbee, facciamo gli utili, sì, esatto, aspetta, ragazzi, adesso vedrete gli youtuber che fanno sport, passa qui, uh, bello, eh, questo qui è il massimo che i youtuber possono fare, esatto, altrimenti cadono in depressione, oh, voi, vai, 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 ok, ok, basta, e, batte sull'altro, ragazzi, questo è per voi, prendetelo, ah, 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 ah Informa con gusto, capito? Non sei nessuno se non ce l'hai, via! Se facevi che adesso ti mettevo se mi piace in tutti i tuoi video. No, è occasione non più abita. Eh, ok, va bene, va bene. Prima di tutto dobbiamo presentare quello che ha sempre fatto i video. Eh, ragazzi, quello che ha registrato sempre i video, ragazzi, FrenchyMod. FrenchyMod, li avete acclimati tanti. Lui si chiama Francesco, qua abbiamo FrenchyMod, ragazzi, insieme qua per la prima volta. Io mi tolgo dalla scena. No, inchiniamoci al suo cospetto, scusi signore alto. Allora, diciamolo, quanti l'hanno acclamato? Tutti, tutti. Volete il suo autografo bene? Ma io non mi piace. Non me ne frega niente, non ve lo... No, dai, scherzo. Allora, guardate il video e lasciate un mi piace nel video. Mi piace. Iscrivetevi al canale di... DadoMod. Esatto. Ragazzi, facciamo tipo... Adesso, aspetta, guardiamo i due fratelli. Un messaggio al 4-5... No, mettete un mi piace e basta. Beh, con questa... Iscrivetevi, perché altrimenti iscrivetevi al suo canale. Insieme in coro. Fra, prendi la telecamera. Vai, io prendo la telecamera. No, lui, Fra e lui. Allora, cambiando il visuale. Il visuale è qua dietro. Che cosa c'è qua dietro? Non diciamolo che... Ok, va bene. 3, 2, 1, commentate, iscrivetevi e mettetevi piace. Buon dia a tutti, ragazzi. Ciao.